Musica Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Creto Festival Ottava Edizione in compagnia di Claudio Metallo che proprio qualche istante fa ha presentato il suo libro Ribelli, storie di lotta in Calabria volume 1 il che presuppone tra l'altro un volume 2, 3, come ci è stato detto però vogliamo chiedergli un inizio, insomma, di cosa si tratta e come mai ha scelto di scrivere questa storia o queste storie Allora, questo qui, Ribelli, è un progetto che è nato insieme al Creto Festival e al Borgo di Petramala in sostanza è quella, l'idea è questa, di raccontare delle storie di persone che si sono ribellate hanno detto no alle situazioni vigenti in Calabria su questioni che riguardano ovviamente soprattutto il lavoro ma anche le mafie e di raccontarle per non far perdere la memoria di queste vicende infatti tutti e due i racconti presenti in questo volume, appunto, Ribelli trattano di due storie che sono realmente avvenute di cui però si sono persi i documenti storici o comunque ce ne sono molto poche e infatti i personaggi che vengono raccontati sono realmente esistiti ma poi in realtà vengono raccontati attraverso la finzione, attraverso la fiction appunto in queste due vicende, una è la storia di un regicida è realmente esistito, nato a Cleto che si chiamava Nicola Pagliaro e l'altra è la storia dello sciopero, il primo sciopero di sole donne probabilmente d'Italia che è avvenuto ad Amantea perché ad Amantea insomma c'era una forte concentrazione di fabbriche che lavoravano il pesce per la conservazione del pesce e lì è nato appunto il primo sciopero di sole donne appunto probabilmente d'Italia per quel che ne sappiamo Cleto tu dicevi prima nella presentazione che avete fatto proprio qua in piazza che sarebbe stata la tua idea farne addirittura un documentario se ci fosse stato il materiale però nessuno vieta che magari diffondendo questo libro qualcuno possa diciamo trovarlo il materiale e portartelo come accade spesso per le tragedie o per determinate storie magari certamente, cioè io sono a disposizione a me è una storia che piaceva moltissimo questa qua dello sciopero di sole donne che mi sembra una storia importante da raccontare per raccontare appunto un territorio che vive tutta una serie di difficoltà ma che in realtà appunto in tempi passati è stato anche resistente è stato forse più forte di quello che è adesso di come lo vediamo adesso quindi sì, ben venga insomma la possibilità di poterci eventualmente rilavorare attraverso un documentario tu comunque di documentari ti occupi e comunque sei una persona impegnata io ho visto anche su internet quindi eventualmente chi ti volesse contattare per, non so, contribuire al lavoro come è successo in questo caso nel Cleto Festival come può fare? è una pagina Facebook, un canale YouTube, un sito internet? guarda sì, c'ho un blog c'è la mia pagina Facebook forse è la cosa più facile la mia mail si trova più o meno in internet ovunque cioè se metti su Google con il mio metallo esce fuori un po' di cose quindi sì, sono a disposizione di chiunque insomma, a me piace collaborare soprattutto per storie che riguardano la Calabria insomma, ci tengo particolarmente infatti la maggior parte del mio lavoro di documentarista tratta quasi esclusivamente storie calabresi cercando sempre di vederle dal punto di vista positivo anche quando si racconta ad esempio una storia come quella che ho raccontato in un documentario che si chiama Un pagamo, la tassa sulla paura che racconta del pizzo alla Messia Derm ho cercato di dare un approccio positivo raccontando le storie dei commercianti che erano riusciti a riuscire fuori da questa cosa o quando ho parlato della questione delle navi dei veleni in un documentario che si chiama L'Avvelenata anche lì è chiaro, c'è un problema c'è un problema di rifiuti c'è un problema di inquinamento c'è un problema di controllo del territorio però è vero pure che il 24 ottobre del 2009 noi calabresi, perché c'eravamo solo noi calabresi siamo scesi in piazza in 40.000 da Mantea per chiedere la verità, la giustizia e le bonifiche e quella è una lotta che ancora stiamo portando avanti